E' la punta di diamante della Nazionale Italiana di Nuoto Paralimpico, una delle stelle che hanno brillato agli ultimi campionati mondiali di Londra, capace di conquistare una dopo l'altra ben sei medaglie, contribuendo in maniera determinante alla vittoria finale degli Azzurri, primi nel medagliere davanti a Russia e Gran Bretagna. Carlotta Gilli, 18 anni appena compiuti, è tornata a casa nella sua Moncalieri, ancora più forte e più sicura, capace di andare oltre i limiti imposti da una retinopatia, che invece di fermarla l'ha spinta a misurarsi prima con se stessa e poi con gli avversari, al punto da scendere in vasca oggi nelle gare di categoria, così come contro atleti normodotati. Questa londa è stata, beh, non posso nascondere che sia stata molto faticosa, molto lunga, le gare sono state tante, la competizione è stata veramente grande, gli avversari erano molto forti, ma anche questo ha reso divertente questo trasferto ovviamente. E noi andiamo lì per gareggiare, per combattere, per cercare di raccogliere tutti i frutti che esaminiamo durante la stagione. E quindi, beh, questa volta è andata bene, sono veramente soddisfatta di quello che sono riuscita ad ottenere, quindi è andata bene. Carlotta, da qualche mese anche ambasciatrice piemontese dello sport, sul podio di Londra, con lei è salito così anche un pizzico di orgoglio, molta soddisfazione e tanto tifo da tutto il Piemonte. Un orgoglio, un'eccellenza piemontese che abbiamo voluto valorizzare ulteriormente con piccoli doni del Consiglio regionale, indubbiamente piccoli doni che dovranno susseguirsi con atti reali da parte del Consiglio regionale. Le valorizzazioni dovranno essere affrontate sicuramente dall'assessore allo sport, ma poi anche dalla promozione turistica, promozione sportiva e turistica che noi affronteremo nei prossimi mesi in Consiglio regionale. Adesso un po' di pausa per ritemprare muscoli e spirito, ma i prossimi impegni sono già dietro l'angolo. L'università nella carriera da studente e i giochi a cinque cerchi di Tokyo in quella da atleta. Sarà un grandissimo onore se potrò partecipare a quell'evento, un grandissimo onore rappresentare la mia nazione. Sarà una preparazione sulla linea degli anni passati, quindi continueremo con il mio allenatore, con la mia società, l'allenante Storino, con il supporto delle Fiamme Oro, tutto l'allenamento che abbiamo cominciato e che quindi continuerà, cercando di migliorare sempre di più e raccogliere il più possibile poi là.